ok la frontale che quella così la destra che dovete mettere davanti alla lampa a destra puoi scendere la faccio vedere il lato che si vede meglio e poi c'è la sinistra perché mancino ancora spaccata siamo poi c'è questa che è una posizione un po strana come vedete lo so scelgo tutte le posizioni strane perché c'è scelgono tutte le posizioni strane allora ci dobbiamo mettere in ginocchio no prima così sarebbe non così non così ma appunto il piede con un piede